Signore e signore buonasera che vi parla è Claudio Saltarelli vi parla da Cassino dall'oltre del lavoro e oggi siamo a venerdì e come voi sapete ormai ogni venerdì ti richiamo un'ora del nostro tempo alla storia alla storia che molti conoscono sui libri che ci hanno dato a scuola però in pochi sanno l'altra faccia di questa storia e abbiamo ripreso la stagione autunno-inverno e primavera per parlare di storia e dopo aver iniziato con il botto adesso con la presa della breccia di Porta Pia con Francesco e Maurizio di Giovani questa sera faremo un'altra grandissima puntata con un altro importante storico di lunga data ma prima di poterlo presentare faccio vedere questo piccolissimo video il video costituzionale a Napoli ebbe vita breve perché soprattutto a causa delle posizioni estremiste di alcuni deputati radicali e repubblicani il tutto fallì nonostante la buona volontà di Ferdinando II in quanto alcuni deputati come Petruccelli della Gattina che scriveva su un giornale ovvero mondo nuovo e mondo vecchio molto radicale e forsemente antiborbonico e poi di Costabile Carducci che aveva guidato la rivoluzione nel Cilento questi deputati magari portarono con sé anche alcuni, all'epoca si diceva, facironosi vestiti come briganti calabresi venivano dal Cilento ma anche dalla stessa Calabria armati addirittura e quindi iniziarono a creare una situazione incandescente in quel di Napoli almeno teoricamente per i cittadini riguardo all'arbitrio del potere assolutista ma paradossalmente i cedi più umili almeno nel regno di Napoli sono fermamente contrari alla Costituzione può sembrare un paradosso perché noi oggi riteniamo la Costituzione il bene supremo di noi cittadini che evidentemente ci protegge dagli eccessi della politica e del governo che magari può assumere contorni poco rassicuranti quindi c'è la carta fondamentale a proteggerci ma noi non dobbiamo dimenticare che siamo nell'Ottocento che innanzitutto è bene sottolineare che questi contadini non erano così ignoranti e ruzzi come ci vengono descritti magari erano incolti probabilmente erano analfabeti ma non erano stupiti capivano che la Costituzione andava contro i loro interessi perché? il motivo è semplice perché la Costituzione dava il diritto di voto ma questo a Napoli come in Piemonte come in Francia come altrove dava il diritto di voto e quindi di essere eletti e di votare soltanto a una piccola percentuale ovvero alle persone che avevano un censo sufficiente per poter votare e che avevano un'istruzione magari la laurea quindi soltanto ovviamente è inutile dire che il voto aspettava soltanto agli uomini e non alle donne che avessero compiuto 21 anni di età quindi appartenero a una piccola minoranza quindi giustamente i contadini erano contrari per un motivo molto semplice loro si fanno le leggi loro si scelgono loro si votano e poi decidono per noi quindi paradossalmente per i cibi più umili era meglio l'assolutismo e come ci saranno dei tumulti anticostituzionali sia nel 48 che nel 60 quando la darà Francesco II suicidandosi e basta ricordare che le cronave riportano che quando Ferdinando II dopo aver concesso la Costituzione da Palazzo Reale fece un giro per Napoli fino a Via Toledo era acclamato perché lì erano tutti liberali ma passato Via Toledo quando si incamminò verso Forcella nessuno più risultava le persone iniziavano a guardarlo perplesso erano perplessi perché tenevano che con la Costituzione per loro per il popolo minuto il popolo vascio come si diceva la situazione peggiorasse quindi c'era questa guerra civile latente e potenziale tra i nobilati signorotti locali che spesso e volentieri vessavano il popolo bene avete visto questo video del carissimo Vincenzo Amico editore che spesso spieghiamo attraverso i suoi libri che ci ha parlato brevemente di un elemento molto importante quando nel 1848 fu promulgata la Costituzione vi ricordo a chi non lo sapesse che la prima nazione il primo Stato in Italia il primo regno in Italia a promulgare la Costituzione fu proprio il regno delle due Sicilie che per volontà di Ferdinando II di Borbone tra l'altro poi capiremo che era era una costituzione altamente innovativa per l'epoca e quando fu fatta l'unità d'Italia non fu tutta da quella ma fu tutta da quella piemontese perché abbiamo fatto passare questo breve video? perché oggi parleremo dei moti del 1848 quante volte noi abbiamo sentito è che in un 48 perché per far capire quello che era successo quando c'è qualcosa di veramente caotico oppure rivoluzionario oppure di di ammuina facciamo usiamo i termini a noi cari si fa sempre riferimento a 48 dove scoppiò una una vera rivoluzione a livello europeo ecco qui ne parliamo ne parliamo con un carissimo amico ospite di lunga data nei nostri nei nostri programmi e soprattutto uno storico che mai da più di 30 anni studia ricerca tutto quello che riguarda il regno delle due Sicilie soprattutto la parte finale quello dei Borbone buonasera Vincenzo come stai? buonasera tutto bene? tutto bene facciamo vedere subito il tuo libro a me non si vede bene ma a te sicuramente si vede bene va beh è lo stesso quindi si si però a te si vede meglio e allora perché abbiamo chiamato Vincenzo perché Vincenzo ha scritto un manualetto si può dire una specie di di piccola sintesi su quei fatti del 48 di cui se ne parla molto poco Vincenzo e tu lo sai meglio di me perché se ne parla se non per poter esaltare i rivoluzionari che furono considerati degli eroi se no addirittura martiri ma non altro che persone che volevano sovvertire l'ordine precostituito fare la rivoluzione e quindi si macchiano di alto tradimento però questo libro è un libro non è un tome è un libro di facile lettura ma soprattutto tu hai fatto un'operazione molto importante a parte c'è la spiegazione di tutto la bibliografia il titolo è successo il 48 puntini 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 che è questo qui ma soprattutto è un piccolo manuale che ti permette di poter inquadrare quegli avvenimenti in tutte le aree geografiche non soltanto italiane ma anche europee e Vincenzo prima di parlare di questo test e del tuo 48 come ti è venuto l'idea di fare questo lavoro? io ho sempre considerato che era un periodo fondamentale quello intorno al 1848 e ho notato appunto che poco era interessava poco agli studiosi posso dire della materia tutti quanti rivolti o al 99 all'invasione francese o al risorgimento ai garibaldi e c'era questa specie di buco in un momento molto importante invece della storia non solo di Napoli ma europea e quindi io mi sono chiesto prima di tutto se c'era un filo che legava le rivoluzioni precedenti cioè quelle antifrancesi e il risorgimento e questo filo passa attraverso il 48 e allora in questo manuale che ho cercato appunto di rendere completo nel senso di abbracciare un po' tutto degli avvenimenti che ci riguardarono perché molti studiosi hanno analizzato alcuni fenomeni alcuni fatti alcune zone alcuni mesi di questo 48 ma nessuno li ha messi tutti quanti a confronto tutti quanti insieme in modo da avere dei dei risultati che probanti sulla situazione cioè per arrivare per avvicinarci alla verità storica bisogna agire a 360 gradi guai guardare soltanto un aspetto per esempio guardare solo che è successo in Sicilia dove da allora c'è stata quasi una una frattura con Napoli bisogna guardare tutto insieme e guardando tutto insieme guardandolo con occhi critici guardandolo con nuovi documenti in questo libro che sembra piccolo ci sta una grande cosa ci sta una documentazione mai usata da nessuno che ha affrontato questo argomento che è stato ecco non affrontato proprio quando c'è stato l'anniversario nel 2018 di questo 48 c'è il sessantesimo e allora io ho voluto veramente riprendere queste cose per farle girare almeno dentro il mondo cosiddetto identitario che pure ignorava queste cose e mi ricordo che quando fondai insieme agli altri il movimento non borbonico tutti quanti stavano intorno al risorgimento e a Garibaldi già quando si incominciò a parlare nel 99 incominciarono a essere sbalorditi perché nessuno si aspettava quelle cose e poi ci stanno peraltro finché il 48 appunto è un'altra cosa che stupisce perché poco se ne parla ma invece ripeto c'è un filo rosso che lega tutte le rivoluzioni io forse se c'è un pregio in questo libro oltre a quelli alla documentazione di cui parlerò poi in seguito è proprio questo filo che lega le rivoluzioni ma in che senso le lega prima perché la matrice è unica cioè chi le scatena sempre al di fuori del regno secondo che il popolo non c'entra per niente questo è molto importante il popolo non c'entra per niente qualche volta gli storici anche anti-borbonici lo hanno ammesso altre volte non lo hanno ammesso poi hanno fatto film hanno fatto pubblicazioni facendo vedere il popolo disperato con l'ottavo contro il tiranno e la gente ci ha creduto e invece se guardiamo bene le cose e se analizziamo poi come detto i vari capitoli cioè le varie scene è successo il 48 noi vediamo che c'è qualcosa in comune in cui manca sempre il popolo e allora io poi ho detto ma chi era una loro rivoluzionaria se ci vogliamo fermare al 48 perché dobbiamo farlo possiamo fare la storia no ma Enzo hai centrato perfettamente i problemi infatti non è stato un caso commesso quel brevissimo video che ha specificato Vincenzo tuo monimo perché il popolo alla fine la costituzione sapeva che era qualcosa che andasse contro i suoi interessi i propri interessi e c'è anche una cosa molto importante che hai detto e hai centrato del 48 se ne parla poco come tu ben sai si parla poco del 99 se non per la Repubblica Napoletana e il 40 sempre per poter esaltare chi è caduto per questi eventi però non si è mente dal fondo mentre il 48 è una cosa molto molto importante perché si pone tra i due eventi il 99 e Unità d'Italia e soprattutto c'è una cosa molto importante caro Vincenzo e qui poi cominciamo col tuo libro mentre nel 99 gli inglesi erano si può dire reazionari o contro rivoluzionari per cercare di sconfiggere il tifone napoleonico il tifone il giacobino francese e qui invece nel 48 è vero e proprio ispiratore ispiratore di tutte le congiure e i movimenti rivoluzionari e terroristici che avvengono in tutta Europa infatti tu inizi dove a parlare introduzione all'anno della rivoluzione europea che cominciamo con il primo capitolo che ci dici c'è stata una preparazione da parte della massoneria di rivoltare le monarchie europee in questo famoso anno che era un anno poi che inseriamo pure in un altro discorso il mio libro è stato escarno perché vuole interessare solo le cose nostre ma se avessi avuto più tempo per farlo più ampio avrei messo dentro che siamo in un momento di grande crisi economica internazionale gli anni 40 dell'Europa sono una crisi economica finanziaria molto pesante e allora ecco che i settari approfittano di questo fatto per far rivoltare la gente che secondo loro è disperata però ecco io ho messo una frase molto interessante che la voglio leggere nel 46 cioè mentre si sta preparando sta grande rivoluzione europea ovviamente grande rivoluzione europea deve scoppiare nei paesi che ancora la setta ritiene pericolosi per i suoi fini Vienna Parigi Milano Napoli Roma questi sono i posti in cui mica fanno scoppiare a Londra oppure fanno scoppiare in posti che non interessa dove interessa a loro creare subbuio e allora nel 46 si riuniscono a Berna i comitati rivoluzionari internazionali un certo De Magari fa un verbale in cui scrive questo parlando della penisola italiana il Piemonte è con noi essendo con noi Carlo Alberto sebbene costrua una trista natura perché comprime sotto il cirizio gli stili rivoluzionari avremo la Toscana con noi tutte le volte che ci farà bisogno Roma non potrà sostenersi per lungo tempo il solo Napoli dobbiamo temere e se non ci seconderà il movimento sarà causa della nostra disfatta se questa è la mentalità che avevano i rivoluzionari di Napoli cioè dovunque come avete sentito loro sono sicuri di fare grande successo ma se come dice qua non avremo un appoggio consistente a Napoli falleremo completamente e poi questo vedremo è arrivato su fallimento in piedi poi ne parleremo la coda di questa chiacchierata io oltre all'introduzione incomincio subito con la Sicilia no aspetta devo farti i complimenti perché effettivamente hai detto giustamente tu non è semplice poter parlare del 48 con un manuale ma bisognerebbe fare alcuni tomi addirittura vari volumi però hai centrato la cilieginia il nucleo il noccio della situazione quella quella riunione a Berna tra i rivoluzionari che inquadrarono e sapevano che cosa fare e come muoversi questo è stato molto importante e quindi andiamo al secondo capitolo che nel regno di Napoli regno di Sicilia i fatti più importanti accadono in Sicilia ecco tu hai detto prima il fatto dell'Inghilterra che cambia atteggiamento perché l'Inghilterra ci aveva aiutato con i francesi per gli interessi suoi e aveva avuto una contropartita non indifferente ma poi aveva deciso che il regno di Sicilia doveva essere spazzato via anche perché aveva grandi interessi non solo sulle solfare siciliane ma anche sulla posizione strategica che la Sicilia aveva al centro del Mediterraneo e quindi loro capiscono che la Sicilia è un posto in cui possono far divampare la rivoluzione perché anche perché come ormai gli studi più aggiornati stanno dimostrando gli inglesi in effetti sapevano che il regno delle Sicilie era un pericolo lo sapevano da tempo era un concorrente pericoloso per loro per loro di sé soprattutto in campo economico e commerciale e allora io ho scoperto personalmente che al congresso di Vienna il verbalizzante inglese prima spaventa Ferdinando IV perché parla che è difficile rimettere sul trono un re che ha lasciato eccetera eccetera è difficile ignorare le istanze dei murattiani che accampano pretese cioè prima spaventa un po' Ferdinando IV e poi dice noi abbiamo messo che Ferdinando può diventare re delle due Sicilie però cioè loro hanno messo insieme loro questa unione di Napoli e Palermo in un unico regno l'hanno messo come fatto compiuto per Ferdinando IV finalmente vincerei sai perché scusami vincerei finalmente perché qua si dice sempre che l'errore è fatto un solo regno ed è vero però fu un'imposizione del congresso di regno altrimenti il regno l'avrebbero dato a Gioacchino Murat e questo è il fatto e questi sono i fatti ma perché fecero questi gli inglesi ma pure la costruzione siciliana è affrontata per questo e si capisce subito dopo perché perché il giorno dopo che le due Sicilie sono dichiarate nel 1816 proprio l'8 novembre che cosa succede che incomincia la propaganda inglese che va a fomentare gli siciliani e dice avete perso la capitale siete diventati una provincia napoletana e incominciano quindi a cercare adepti e a far girare queste voci contro Napoli cioè loro l'avevano fatta nel 1816 già in previsione di una facile conquista della Sicilia quindi nel 48 è chiaro che fanno scoppiare i modi in Sicilia ti fanno scoppiare no ma loro avevano loro fecero poi fecero fare la costruzione siciliana perché pensavamo che poi il Parlamento siciliano avesse la forza per dividersi di staccarsi per contestare staccarsi poi e fare una regione autonoma rispetto al regno al regno quindi la protezione inglese chiaramente però poi Ferdinando IV la tolse non la fece la fece tenere in vita per poco tempo e successe quello che dicevi tu e quindi arriviamo ai ai moti siciliani che partivano da lontano a questo punto e partivano da lontano e in effetti io volevo dire prima un fatto che è legato un po' tutto chi erano i rivoluzionari perché se ho detto io che il popolo non c'era allora uno può dire di marchia che faceva la rivoluzione allora si sa che è un fatto ormai che chi non conosce la monarchia borbonica sa bene che la monarchia borbonica si per aiutare la povera gente si inimicava spesso l'aristocrazia questo si sa e allora è anche la ricca borghesia e sono questi che sono per la rivoluzione perché perché vogliono sostituire il re vogliono un re più malleabile per i loro sporchi interessi di sfruttamento della povera gente e allora sono questi e allora io mi so che ho fatto un discorso così in crescendo sono i nobili e sono i i borghesi ricchi e ma quanti ne sono possono fare male a rivoluzione no non la possono fare e allora chi fa la rivoluzione ma i nobili e questi qua quando si trovano in cattive acque che non tengono nessuno per fare massa spesso nei paesi più lontani dai centri abitati fanno scappare i galeotti danno ad essi praticamente la possibilità di essere liberi purché li aiutano a fare delle manifestazioni di piazza quindi i primi rivoluzionari dopo i nobili sono i galeotti ma i nobili non scendivano mai da solo perché sappiamo che questi grandi latifontisti tenevano all'interno dei loro sterminati fevodi che ancora esistevano degli agglomerati di case dove da secoli vivevano quei contadini questi contadini non potevano negare niente al signore se il signore diceva andiamo a caccia tutti i giovani dopo le mattine venite con me per andare a caccia al cinghiale tutti i giorni dovevano lasciare la terra e andare appresso al signore per andare a caccia al cinghiale se per caso questo diceva facciamo un'altra cosa invece di fare la caccia al cinghiale andiamo a fare una manifestazione contro il governo questi andavano a fare manifestazioni con il governo e allora qualche migliaio di nobili scontenti e se ognuno di essi andava a mettere insieme qualche centinaia di contadini e allora capiamo come diventa più numerosa oltre agli ergastonali sempre pronti la massa dei rivoluzionari però era una rivoluzione fatta contro le forze dell'ordine e contro l'esercito e non bastavano certo i contadini comandati a forza a fare la rivoluzione e allora che cosa questa è la conoscenza dei rivoluzionari internazionali essi avevano fatto una cosa che oggi conosciamo bene e perciò glielo ho scritto proprio così qua dentro i rivoluzionari del 48 sono i black block dell'ottocento noi sappiamo benissimi sui black block li abbiamo visti a Genova qualche anno fa ma stanno dappertutto quando si tratta di fare una grossa manifestazione contro le istituzioni il caos quando devono creare il caos sono le persone vestite di nero sconosciute che oggi stanno a Tokyo domani stanno a Ottawa dopo domani stanno a Città del Cato non si sa chi gli fa chi viaggia non li arrestano mai sono molto bravi a combattere e sono un orario che organizzano poi la gente comune che si rivolta ebbene i black block non sono un'invenzione del XXI secolo sono un'invenzione dell'Ottocento perché già allora avevano dei campi di addestramento di mercenari rivoluzionari e li mandavano dove doveva scoppiare la rivoluzione allora questo cambia completamente le carte in tavola perché queste migliaia di contadini che dovevano obbedire ciecamente al barone diciamo pure così venivano supportati da centinaia di black block internazionali molto bravi nella guerra e che erano stati spediti in posti aperti che non avevano un grande filtro come le due Sicilie che erano posti liberali al massimo in senso buono la parola e quindi erano arrivati in Sicilia soprattutto erano greci soprattutto erano corsi soprattutto erano ungheresi e polacchi polacchi cioè di quali zone di zone che era facile andare a trovare mercenari perché c'erano dei risentimenti nazionalistici perché stavano sotto magari l'impero austro-ungarico e cose del genere e quindi questi qua invadono la Sicilia danno forza a a quelli che gli aristocratici avevano comandato e che in Sicilia è molto chiaro sono i picciotti si chiamano così i picciotti nascono proprio così con delle persone armate che nei feudi dei baroni siciliani sono comandati a fare alcune azioni contro il governo di Napoli e quindi questi qua sono poi comandati da questi stranieri che arrivano e che riescono in poco tempo ma con una sequenza di avvenimenti che non è il caso di vedere qua con un clamoroso esaltoramento delle istituzioni borboniche perché non ci dimentichiamo che Napoli tiene un difetto un peccato originale molto forte avvenuto dopo l'invasione di Francesca cioè il fatto che Ferdinando IV aveva unito l'esercito siciliano e Napoletano che era andato con lui in Sicilia e l'esercito murattiano che era rimasto sul continente questa è stata è un gravissimo errore che fece Ferdinando IV la politica dell'amalgama ecco dell'amalgama e non era possibile perché questi si erano formati nell'annunziatella in cui circolavano le idee rivoluzionari al massimo non andò mai a ripulire l'annunziatella il re ma continuò a avere i comandanti murattiani che insegnavano e mettevano in testa agli giovani ufficiali idee sovversive e allora questo fatto qua porta che tranquillamente i peggiori li mandano in Sicilia Di Maio è il luogo della Sicilia che è uno dei peggiori murattiani e che quando è il momento risponde all'appello e fa in modo con una strana somiglianza con l'ANSA nel 1860 che non si combatta a Palermo che un'intera armata venga disarmata se ne vada da Napoli e lasci la città di Palermo in mano ai rivoluzionari cioè i reggi che avevano la forza per schiacciare la rivoluzione anche perché ripeto i siciliani non erano per niente favorevoli a tutto questo i siciliani comuni noi i picciotti e ora vi dico sì vincente vengo molto perché c'è una documentazione speciale qua dentro ho trovato grazie a un amico di Agrigento che tiene una moglie inglese la quale sapeva che era stato scritto un diario dal consolo inglese che si chiamava Wilkinson William Dickinson che stava a Palermo in quel periodo il consolo inglese ovviamente sempre pronto era guardate che si vede in fine la stessa cosa in 60 quando i soldati i reggi vogliono resistere il consolo inglese va dal vicere dal logotarente dice no bisogna rispettare le parti bisogna evitare stragimenti cioè già comandano loro gli inglesi e tutto quello che succede e allora loro tenevano pure un diario per controllare che succedeva giorno per giorno e questo consolo mandava questo diario il suo diario erano parole perse invece una ricercatrice siciliana una ventina di anni fa è riuscita a prendere questo diario scritto in inglese in calligrafia pessima è riuscita a portarlo in italiano io ce l'ho questo libro raro che uscì in Sicilia questo amico mio mi ha procurato e ci sono delle pagine delle fotografie dei manoscritti è allucinante andare a decifrare l'inglese antiquato scritto pure male comunque questa ha avuto il coraggio di fare e l'ha fatta e che ne viene fuori da qua e questo ogni giorno fa il diario addirittura incomincio con le previsioni del tempo qui in Palermo il tè oggi fa caldo oggi è successo questo e in moltissime pagine continua a ripetere lo stesso refreno qua i siciliani non vogliono niente a vedere non vogliono niente a che fare con la rivoluzione sono i mercenari stranieri che tengono su la rivoluzione i siciliani se potessero li caccierebbero immediatamente a calci e stanno rimpiaggendo i soldati del re di Nato questo e non per un giorno per tutto il periodo di quasi un anno e più in cui stette la Sicilia infatti infatti Vincenzo il popolo pure quello siciliano non partecipò perché qualcuno dice si a Napoli fece tutte le cose ma in Sicilia no no niente e niente Enzo il fatto è che loro preso la Sicilia la presero bene la controllarono bene ma non lo potevi fare senza l'apporto straniero e soprattutto quell'inglese che aveva mandato il fiorferro dell'ufficiale e il fiorferro dell'evoluzionario a controllare l'isola mi sembra di avere che tu chiami black block ma si possono anche chiamare i contractor di oggi che vediamo spesso che la perfide albione manda ancora in giro per il mondo a sobillare e a creare guerre per cercare di ricominciare a tenere guarda vedere il 48 è attualissimo più del 60 per questo aspetto adesso passiamo invece il re concede pericchi e questo è il problema sia i siciliani per cercare di salvare di salvare ma che è un'altra cosa che si verifica sempre quindi è meglio chiarirla il problema di non tirare la corda perché sa che vorrebbe evitare che succeda qualcosa di molto energetico questo è molto pericoloso e inutile questo fatto qua secondo me contro il re perché questi se hanno uno vogliono due se hanno due il re pensava che dando 10 questi stavano zitti invece che si conviene ancora tanto perché la sicilia ottiene tutto e lo stesso dichiara decaduto Ferdinando II ma loro loro il re non comprese che questa era una visione era un'ideologia una visione che aveva i suoi obiettivi e che aveva anche che era partita già dalla guerra della pace di Vestalia poi è nata con l'illuminismo ma soprattutto poi è decolata con il gioco era una visione ben precisa la neoborghesia il nuovo capitale la massonaria voleva il potere assoluto e quindi dovevano abbattere tutte quelle tutte quelle figure che erano ad ostacolo per la loro visione e per il loro progetto comunque adesso passiamo al capitolo di Napoli qui cito cito proprio il tuo titolo il 48 a Napoli e nel regno Citrafaro è il regno Citrafaro perché il Cilento soprattutto che apparteneva al principato Citra di Salerno era un posto adatto per come la Sicilia abbiamo visto era adatta per certe cose così diciamo nella moderna Campania il posto adatto era il Cilento perché perché è un posto montagnoso in cui ancora oggi è difficile camminare per le strade interne che allora si usavano soprattutto le strade arittime per colgare i vari posti essendo molto montagnoso quindi quando succedeva qualche cosa in un comune mentre veniva avvertita l'autorità che stava nel posto più importante nel capo circondario che era Vallo che era per esempio lontanissimo da Sapri lontanissimo da Palinuro e allora loro erano sicuri che avevano diversi giorni avanti a sé per poter fare incominciare la rivoluzione e far bella figura pur con quelli che gli mandavano i soldi per far rivoluzionare questo era già accaduto nel 1828 in cui avevano fatto una reazione nel Cilento e quindi sono gli stessi perdonati poi da Ferdinando II che organizzano questa del 48 quindi perciò mi sono riferito soprattutto al Cilento anche perché ci sono dei personaggi da dentro che poi ho seguito un po' da vicino lì c'è un Don Vincenzo Peluso che è un bellissimo personaggio questo era un giovane prete che partecipò insieme a Ruffo nel 99 ed era rimasto sempre un fedelissimo di Casa Reale tanto è vero che nel congresso di Vienna accompagna la regina Maria Corolina e il suo accompagnatore è diventato Monsignore e quindi è sempre legatissimo alla Casa Reale ed era colui che nel 28 aveva fatto arrestare i rivoluzionari e nel 48 loro temevano moltissimo c'è un c'è un rivoluzionario che si chiama Costabile Carducci che io ho ricordato proprio proprio cilentano che già nel 28 si era messo in evidenza che era di origine toscana il nome lo spiega ma che era nato qui e che praticamente era il referente dei baroni anche locali per far scoppiare i moti e questo è Costabile Carducci l'ho seguito perché mi ha portato poi a una cosa molto interessante che voglio dire adesso lui quando scoppia la rivoluzione anticipiamo un poco viene sconfitto deve scappare da Napoli praticamente prima che tutto finisca lui sbarca a Sapri e cerca di ammazzare Don Vincenzo Peluso perché per lui è un chiodo fisso è quello che l'ha perseguitato per una vita intera allora trovandosi nel caos nel 48 ecco che tutto stava in movimento lui sbarca lì per uccidere Peluso ma Peluso sta attento e quando li vede sbarcare scopre chi sono e praticamente vengono arrestati questi qua dai gendarmi borbonici questo già è stato ripeto nel 28 arrestato e graziato era uno comunque sempre contro il re di Napoli viene ferito nella piccola sparatoria che si è avuto e Don Vincenzo Peluso lo fa curare e poi lo dà ai soldati ai gendarmi lo fa portare a sala al carcere circondariale perché appena sta bene lo fa portare lì per il processo perché questo era un traditore i soldati tornando alla strada sono stufi del fatto che i borboni praticamente andavano a giustificare tutti a perdonare tutti conoscono chi è questa bestia nemico del regno di Napoli lo ammazzano per strada e lo buttano in un borrone e allora è una cosa che hanno ricamato sopra imputando il fatto a Peluso e nel Cileno ancora oggi parlano di un erogo quasi di questo Carducci che assolutamente non lo è io ho messo una fotografia nel libro a pagina 58 se la vedete qua è un anello d'oro perché abbiamo incontrato un discendente di Peluso il quale ci ha raccontato poi quel fatto in cui c'eri pure tu a Torraca quando è venuto Ferdinando II ecco in quelle parti Ferdinando II andò prima a trovare Peluso che ormai era molto vecchio e gli andò a portare un suo anello personale per ringraziarlo dalla fede a Tà alla Casa Borbonica sta scritto proprio dentro io l'ho avuto in mano questo anello bellissimo perciò ho fatto la fotografia e sta scritto Ferdinando II con ammirazione a Don Vincenzo Peluso e questo pronipote ce l'ha ancora quindi ecco perché mi sono un po' soffermato sul cilento a Napoli a Napoli che c'è da dire a Napoli c'è da dire che venivano prima di tutto incominciarono a venire tutti i studenti in un periodo in cui l'università era chiusa incominciarono a venire tutti i studenti universitari del regno a Napoli che erano tutti i figli dei baroni quindi già c'erano centinaia e centinaia di giovani che volevano la rivoluzione e facevano manforte con i mercenari che già erano sbarcati e quindi cominciarono a fare quello che sappiamo chiedevano la costituzione e il re fu il primo in Italia a febbraio a concedere questa rivoluzione a malincuore però la volle concedere sempre con la speranza che si placassero gli animi e anche indisse le elezioni per riunire il primo Parlamento che cosa succede che una volta che è stata data la costituzione a Napoli come sapete si sparge la voce in Italia e anche gli altri fanno la corsa per non essere secondi per carità al re di Napoli e quindi poi segue il Papa poi segue Carlo Alberto col famoso statuto che tutti quanti dicono che è la prima costituzione italiana e invece è quella di Ferdinando II come hai detto tu però questa costituzione giurata dal re nella chiesa di San Vangesco dei Paoli subito dopo che è stata giurata sono state indette le elezioni praticamente non contenta affatto di evoluzionare i quali si riuniscono prima di essere eletti i famosi candidati si riuniscono a monte come si chiama a monte a monte non temi non temi no monte dove c'è il Parlamento della Repubblica Napoletana monteoliveto che era un monastero che i francesi avevano scuso a monteoliveto si riuniscono i candidati sia ben chiaro questo i candidati deputati e incominciano a dire come possiamo fare per allargare i dissenso contro il re praticamente magari ci hanno la costituzione a noi che ce ne importa e allora vanno a fare una provocatoria proposta a Ferdinando II guardate che io ho parlato di questi fatti proprio nel cilento in faccia a dei veri sacerdoti del 48 anti-Ferdinand e non hanno saputo che rispondere che lo chiamano spergiure non al re poi vedremo perché e allora vanno dal re e vanno a dire sì la costituzione l'avete firmata però noi prima di tutto volevano un governo a filo rivoluzionario il re lo forma e questo governo porta le stanze dei deputati impeccatore i quali dicono il re deve adesso aggiungere questa postiglia alla costituzione cioè al giuramento fatto aggiungo che giuro di osservare anche le future modifiche che il Parlamento apporterà alla costituzione voi capite che significa questa frase cioè se il Parlamento avesse detto vogliamo la Repubblica il re se ne deve andare se il Parlamento avesse detto vogliamo fare la guerra a Spagna il re deve fare la guerra a Spagna il re dice io ho giurato una costituzione l'ho letta e l'ho giurata come posso mai accettare una clausola di giurare una cosa all'oscuro è come se firmasse un assegno in bianco e si rifiutò di farlo immediatamente i mass media d'Europa portarono che il re si era rifiutato di applicare la costituzione ma il re si era rifiutato per l'allargamento assurdo non si era la costituzione era già stata accettata invece loro volevano un allargamento pericolosissimo perché volevano mettere in difficoltà il re e adesso ciò che avete parlato che il popolo era freddo perché quando detta la costituzione chiaramente i camorristi che erano poi i comandati a Napoli e cioè i ghiere a Castolani di Napoli liberati e i mercenari internazionali insieme ai figli di papà dei baroni inneggiarono al re quando uscì dal palazzo reale per dare questa parvenza successo loro il re invece altrove non ebbe nessuna accoglienza favorevole la gente era molto fredda ma io vi dico una cosa che è successo proprio ad aprile se non vado errato cioè prima che succedessero i guai del 15 maggio ad aprile il re aveva visto che questi erano incontentabili che la Sicilia diventava sempre più lontana da Napoli e pretendeva qualsiasi cosa che praticamente Napoli era piena di faccia strana di persone che minacciavano di fare qualcosa di brutto il re non vuole spargere sangue il re non vuole nemmeno dar la vinta a queste persone inaffidabili che sono i rivoluzionari e allora ecco non si rivolge al suo governo filo rivoluzionario che gli hanno imposto fa una cosa di democrazia diretta che io ho riportato mi fa due uno all'inizio e uno alla fine della rivoluzione se mi ricordo se non mi dimentico la seconda ricorda me la tua la prima è questa qua lui esce dal palazzo reale e immediatamente un trappello di soldati gli va presso lui dice no no nessuno mi viene presso a me e insieme soltanto a un paio di attendenti stanno verso i quartieri spagnoli che come sappiamo stanno a poche centinaia di metri dalla reggia quindi cammina nei quartieri ovviamente questi quartieri che pullulavano allora di veri napoletani non come oggi appena vedono il re si spaggia la voce sono il re sono il re e calfano scendono tutti quanti e circondano il re e il re avanti a centinaia di persone racconta le sue preoccupazioni dice guardate Napoli è piena di brutti ceffi io penso che da un momento all'altro questi incominciano a sparare voi che cosa pensate che io debba fare bisogna fare un bagno di sangue alla città o bisogna ancora dare più concessioni magari pure quella assurdità che hanno chiesto loro e cercare di tenere come si dice il carro per la discesa ebbene ho portato la frase in napoletano perché questi capipopolo dicono maestà la rivoluzione la vogliono i signori non la vogliono i popolari sono quelli che vestiti di seta che loro chiamano le sediglie le sediglie che vuole una rivoluzione ma se voi ci date il permesso noi le sediglie facciamo mappine cioè noi combatteremo insieme ai soldati e li faremo fuori questa gente che sta qua agli strani un nuovo sanfedismo un nuovo sanfedismo cioè si va a risollevare lo spirito popolare che dice al re di resistere perché i napoletani sono tutti con lui e non solo con questi stranieri o questi figli di papà che non hanno a che fare col popolo napoletano il re se ne va molto convinto da questo fatto qua e tiene in testa a sé sempre questo fatto preciso quando arriva il mese di maggio fatidico in cui questi aumentano la pressione nella piazza e cercano continuamente di far scoppiare il casus per sparare ma non succede niente perché il re è molto cauto anzi spesso va a mettere nelle caserne i soldati per non farli stare troppo per strada per non urtare la suscettibilità di questa gente con le coccardie già tricolori che camminavano per le strade dei napoli ma questi non sono ovviamente disposti ad accettare niente devono hanno avuto gli ordini anche dalla set internazionale che come ha messo sotto sopra Roma Milano eccetera deve fare pure a Napoli allora si decide di rascoppiare a Napoli poi sappiamo come è andata dopo il 15 maggio ci fu una repressione feroce da parte dell'esercito Borbonico l'esercito napoletano e Ferdinando II tende in piedi il Parlamento non sospese non cancellò la sua costituzione ma la sua spese ma questa è l'unica cosa che fosse si racconta sempre invece Vincenzo passiamo alla spedizione che prima della contestualmente c'è la spedizione in Valpadana ecco questa è una cosa pochissima conosciuta poco studiata Curtatone Montanara tutti si chiaccia sì Curtatone Montanara un'altra falsità clamorosa in contatto sia con il comune di Curtatone che Montanara che appartiene ad un altro comune non mi ricordo ma hanno proprio risposto sullo spaventare l'ho cercato in contatto anche con Venezia e Venezia mi ha risposto e avevamo organizzato proprio quando è scoppiato il covid di presentare questo libro a Venezia sarebbe stato uno scoop bellissimo addirittura si sono comprati un pacco di libri miei i veriti sì perché mi hanno telefonato entusiasti delle cose che stavano scritte qua che finalmente tu hai parlato di Pepe e di Manin come nessuno ne ha parlato mai ecco ma purtroppo è andato avanti così perché dopo due anni di pandemia figuriamoci che se è possibile riprendere questo contatto ma il fatto è importante perché fra le varie cose che cercavano di fare ecco prima del 15 maggio loro cercavano di far partire da Napoli le migliori truppe napoletane che avevano dei soldati e allora che fanno ogni giorno andavano sotto al Palazzo Reale a chiedere di partecipare alla guerra di indipendenza che Calabert aveva dichiarato all'Austria se vi ricordate nella primavera del 48 aveva fatto una lega italica addirittura chiamando i principi italiani a cacciare lo straniero come se gli austesi fossero l'unico straniero italiano e come i Savoia non fossero francesi pure loro comunque Ferdinando non risponde ma loro continuamente vanno a protestare avanti al Palazzo Reale e succede una rete molto simpatico Ferdinando II un giorno si affaccia e dice si avete ragione bisogna fare dare la mano agli italiani che combattono per l'Italia allora tutti quelli che state qua vi do armi e bagagli le navi stanno in bordo imbarcate e partite per il nord è un spettacolo come quelle farse che queste erano tutte era fasulle loro non volevano andare lì infatti da parte una decina il resto volevano che i soldati fossero mandati là e il re sempre per la sua pazienza enorme e tolleranza addirittura manda delle truppe per via mare e per via terra addirittura al comando del murattiano numero uno Guglielmo Pepe che già era stato uno della Repubblica Pertanopea 19 anni quindi figuratevi chi era questo personaggio e che era rimasto a galla fino al 48 e lui si prende il comando di un forte esercito che va per il nord e partecipa alla Repubblica di Indipendenza si parla di Lega Italica non è affatto una Lega Italica perché che quando raggiungono in Valpadana le truppe sabaude quando ci sta da fare una strategia di fare una battaglia nessun generale né napoletano né toscano né pavolino viene indeso viene consultato fanno tutti i piemontesi a testa loro e fanno sapere a questi dove si devono mettere cioè non è niente di paritario è soltanto uno sfruttare la carne da macello che hanno mandato graziosamente a nord e i soldati restano molto male soprattutto i comandanti che si lamentano a Napoli quando ci sta una Lega noi non contiamo niente anzi ci hanno lasciato ecco qua tra Cortatone e Montanara con 1500 soldati e con i famosi studenti dell'università di Pisa e noi abbiamo paura di essere investiti da una una divisione di radeschi forti di 8000 austriaci che stanno in zona e questi ci hanno lasciato e quasi ne sono andati verso Goito arriva radeschi capisce che l'unico ostacolo per andare addosso a Carlo Alberto sono queste truppe napoletane e fra Cortatone e Montanara per due giorni fa una battaglia terribile una battaglia terribile in cui i pisanzi ne scappano dopo un quarto d'ora questo è importante ancora i libri di testo italiani dicono che furono i studenti pisani a fermare gli africi se ne scapparono furono i soldati napoletani furono soprattutto il sedicesimo undicesimo Abruzzi che stava in prima linea che riuscì a fermare radeschi con le sue gruppe super allenate e molto numerose numericamente figuratevi che dopo questa resistenza Calaberto darà un premio agli ufficiali napoletani e il popolo li porterà in trionfo i mandovani i lombardi li porteranno in trionfo i soldati napoletani perché hanno salvato anche le loro case guardate se Radeschi sfondava avrebbe fatto prigioniere Carlo Alberto e finiva ben diversamente la prima guerra di indipendenza sì ma poi ci fu pure il fatto di poi ci fu il re capì che stavano lì soltanto per sguarnire Napoli e quando successa a Napoli il 48 il caos del 15 maggio richiama le truppe indietro questo fatto qua Pepe si porta invece i più no fedeli i più che erano imbauriti dal grande generale se li porta a difenda la Repubblica Venezia e guardate che l'80% dei corpi di spedizione Napoletani che erano quasi 15.000 uomini se ne torna a piedi nel regno osteggiata da tutta la popolazione che pensa che stanno tradendo Carlo Alberto se ne tornano a piedi senza rifornimenti e senza soldi e arrivano a Giulianova che è il primo comune del regno delle due Sicilie morti di stanchezza e poi là si imbarcaranno ma c'è da dire anche un'altra cosa lì ceppa la situazione di Pio IX che prima iniziò poi se ne secondo che non poteva continuare una guerra contro uno stato cattolico e questo ma poi per chiudere ma poi fermiando secondo capire un'altra cosa vince che lì praticamente si stava facendo una guerra senza gli accordi preliminari e soprattutto aveva capito che si sta facendo una guerra non per fare l'Italia ma per allungare per allargare i confini del Piemonte gli oneri al regno di Napoli e gli onori a Isavolo e poi un'altra cosa anche questo voglio chiarire si dice che offrirono la corona d'Italia nel 48 a Ferdinando non è vero non fu mai offerta a Ferdinando soltanto come avevo fatto il congresso di Vienna in un articolo i liberali scrissero dovrebbe essere Ferdinando II a guidare questa lega italica ma il governo non è nessuna richiesta né l'aveva mai accettata quindi il fatto che nel 48 si offrì a lui poi Vincenzo proseguiamo sul libro a parli addirittura no non mi voglio dimenticare la seconda prova di democrazia la vuoi dire adesso? si la voglio dire adesso perché una volta messa a posto le cose il 15 maggio senza arrestare i deputati ah che dissero che loro erano stati arrestati come deputati del regno non è vero perché non erano stati mai eletti erano candidati è come se oggi arrestassero quelli di una lista che si presenta domenica e che sono candidati non sono parlamentari quindi loro dicono che addirittura i parlamentari furono arrestati non è vero furono arrestati i candidati traditori e comunque vabbè finisce tutte le cose che fa il re fa una grande festa di ringraziamento al popolo nella reggia di Portici e fa un'operazione che è addirittura per venire dal Medioevo nel grande atrio della reggia di Portici il re e la famiglia reale cucinano e distribuiscono al popolo un pranzo completo e lo mangiano insieme al popolo per ringraziare il Ciro di quello che è successo una cosa meravigliosa che è una democrazia eccezionale anche il piccolo Francesco si dice che rimase male guardando come uccidevano i polli come la mamma Maria Teresa cioè la mamma la matrigna Maria Teresa uccideva i polli che poi venivano cotti e mangiati insieme agli altri insomma così un aneddoto interessante un'altra cosa particolare che sta qua ripeto è il fatto di Pionò che se ne è parlato sempre tutti quando sappiamo scappò da Gaeta scappò a Gaeta venne nel regno sette quasi due anni è qui che ha concepito il dogma dell'Immacolata e lo concepì nella chiesa del Gesù vecchio la chiesa di Don Placido è lì che ebbe l'immagine della Madonna che ha parlato della sua del dogma dell'Immacolata che bisognava proclamare comunque la cosa importante è questa che finita la rivoluzione il Papa chiede di essere aiutato a riconquistare il regno dove si era istituita una repubblica romana piena di peggiori rivoluzionari di tutto il mondo fra cui la crema proprio di quelli italiani da Mazzini a Garibaldi e Garibaldi che era stato diciamo così assolto dalla condanna al morto del 34 che l'aveva avuto dai piemontesi e che era tornato dal Sud America dove aveva fatto il criminale lì per diventare il criminale dei due mondi e quindi stava in prima linea a Roma che era il suo vecchio pallino quello di eliminare il Papa il Papa chiede aiuto alle nazioni cattoliche e quattro delle più importanti nazioni cattoliche sono disposte a mandare aiuti militari al Papa sono la Francia la Spagna l'impero austro-ungarico e il regno delle due Sicilie però qui fanno un patto fra di loro i rappresentanti cioè la Francia deve mandare delle truppe leggere di combattimento la Spagna arriva con una flotta e quindi manderà una specie di Marines gli austriaci manderanno le truppe di fanteria dal nord e Napoli ecco questa è la cosa importante per capire poi gli sviluppi deve essere di supporto logistico essendo il più vicino ovviamente allo Stato quantificio che vuol dire supporto logistico soprattutto di portare l'artiglieria perché Napoli deve portare gli altri che venivano da lontano e portare poi le manutenzioni e i rifornimenti agli eserciti alleati che dovevano attaccare Roma quindi si è ben chiaro che c'era un esercito napoletano comandato lo stesso re Ferdinando che entrò nello Stato condificio però andava soltanto per dare aiuto logistico agli altri perché dico questo perché come sapete a Dell'Etri c'è un piccolo contingente di soldati reggi che non erano niente affatto adatto a fare combattimento perché ripeto erano quelli che dovevano dare appoggio agli altri e Garibaldi si trova con un battaglione in zona e pensa di poter liquidare in poco tempo i borbonici e insieme a un altro traditore rinnegato Carlo Pisacani che sta proprio lui fra i rivoluzionari attaccano l'esercito di Ferdinando II il quale ha una difesa e mandano poi a Roma dispacci per chiedere l'intervento degli inforzi per distruggere i borbonici perché loro ancora non erano arrivati né gli spagnoli né gli austriaci i francesi non si sapevano quando sbarcavano la cività vecchia allora si trovano tutti quanti vogliono dare insieme tutti i rivoluzionari di Romani il colpo di grazia ai napoletani che ovviamente sono i più odiati perché si sa che sono i meno ammalleabili della rivoluzione il generale Rosselli da Roma manda una divisione intera che avrebbe potuto mettere in grande difficoltà lo stesso Re Ferdinando che era in zona ma l'azione presuntuosa di Garibaldi che è andata già a finire male Garibaldi era stata messa in rotta e i borbonici si erano ritirati e avevano chiamato il resto delle truppe quando arriva la divisione da Roma trova Garibaldi che sta scappando e i borbonici ormai allertati che è difficile andare più a sorprendere e Garibaldi viene messo sotto processo da Mazzini e da Rosselli nella Repubblica Romana perché ha fatto fallire una cosa molto gustosa molto interessante poi arriveranno i francesi come sappiamo Garibaldi ripiegherà da tutta la parte poi se ne scapperanno come sappiamo verso Nord e sappiamo pure che gli austriaci non cominceranno a braccare ma anche se non ci sono le prove che parecchi vogliono sappiamo pure come morì Anita per mano di Garibaldi durante la sua fuga e poi c'è stato un bellissimo lavoro del compiando di Luciano Salera che ha fatto una ricostruzione e che ci sono poi investigati la propria polizia la marina esatto e allora questo è importante proprio per far capire che combattemmo anche nello stato pontificio allora poi l'ultimo mio capitolo è altro quello volevo dirti quello volevo dirti sull'ultimo capitolo è molto prima di parlare della riconquista della Sicilia dobbiamo considerare che il regno del 2 Sicilia è stato l'unico paese europeo a liberarsi di rivoluzionare senza aiuto di nessuno lo fece in maniera autottona in maniera autonoma anche perché c'era un gallo fino a giri che allora era lo fece lo fece da solo quindi concludiamo poi questo escursus del tuo libro con l'ultimo con l'ultimo capitolo dedicato alla riconquista della Sicilia che praticamente fu fatto in maniera autonoma senza aiuto di nessuno e anche qua è un fatto molto delicato che bisogna che io avrei voluto portare in Sicilia è che questa pseudo pandemia ha fatto andare in aria fino a oggi già la Sicilia c'erano stati dei combattimenti a Messina quando avevano evacuato l'isola quando avevano reso indipendente la Sicilia i rivoluzionari e volevano attaccare la cittadella di Messina che rimase anche nel 48 di proprietà in mano ai reggi si disse che questa cittadella rappresentava poi il grimaldello per riprendere la Sicilia infatti Carlo Riffinagiri con un forte esercito in effetti nella primavera del 49 passa allo stretto e sbarca in Sicilia protetto appunto dai cannoni della cittadella c'è una grande battaglia a Messina e qui mentre Ferdinando II fu chiamato re spergiuro per quella pseudo abbiura della Costituzione che abbiamo visto non era così ma qua c'è un'altra bugia su Ferdinando II che viene chiamato re bomba perché che succede a Messina? Succede che i rivoluzionari non potendo fermare lo sbarco dei reggi si asserragliano nell'abitato di Messina e fanno un po' quello che io non voglio entrare in campi un po' più diciamo così soggettivi ma sappiamo che in Ucraina gli ucraini si vanno a barricare nelle scuole nei supermercati negli ospedali poi i russi combattono contro di loro ed escono le notizie che hanno attaccato un centro commerciale hanno attaccato un ospedale non so se avete capito loro si vanno i soldati nemici si vanno a mettere là a sparare contro in quel caso i russi e quelli rispondono e poi lì che ne vanno attaccati questo fatto è accaduto già a Messina ciò ne sto parlando questi si vanno a mettere nelle case dei messinesi i quali sono scappati via che hanno capito che non era buono spesso sono andati sulle montagne molti nelle case a mare che tengono nella punta di Messina e allora i rivoluzioni stanno nelle case e si parla di scudi i scudi umani dai i famosi scudi umani no i scudi umani no ma queste sono case scudi umani perché i messinesi non ci stanno però combattono contro le case dei messinesi e questi che cosa fanno quando vedono che i fatti non vanno ben devono ritirarsi minano un palazzo e se ne vanno a quello più dietro e fanno scoppio a rinare il palazzo ed è un fatto che continua ci sono dei corpo a corpo eroici e ho messo in evidenza dei comportamenti eroici dei nostri soldati che devono combattere con delle forze non indifferenti dei famosi mercenari di cui dicevamo prima non ci stanno mica i siciliani i siciliani quando vedono questa situazione se ne scappano e se ne vanno via comandati da come si chiama la masa se non sbaglio non vorrei sbagliare e mentre gli stranieri i polacchi e i corsi soprattutto rimangono lì a combattere in modo feroce contro i reggi perché sono stati pagati profumatamente e ci sono varie esplosioni che cosa hanno riportato oltre al fatto che hanno attaccato le case dei messinesi come riportano in Ucraina e questo l'hanno fatto perché sparavano su di loro chi? i rivoluzionari ma dicono che la fortezza di Messina ha bombardato la città e quindi avrebbe ucciso poi i messinesi allora Alessandro Fumio che è uno storico molto preciso di questa messina ha fatto un libro molto bello su Messina e ha parlato proprio di questo e scoprì che i cannoni di Messina non arrivavano oltre le due miglia mentre le case di Messina allora stavano oltre le due miglia e quindi ha dimostrato che non potevano cannoneggiare Messina quindi ha dimostrato che le esplosioni in Messina le avevano fatti i rivoluzionari per farsi le barricate attorno contro i reggi ma intanto tutta l'Europa sa che il senato II ha bombardato Messina tutta l'Europa dice che è il re bomba perché spari con i suoi sudditi una bugia puoi ripetere il nome dello storico siciliano che hai detto prima Alessandro Fumia 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 ha fatto un libro benissimo su Messina e sta scritto delle cose eccezionali su Messina conquistata Messina tutti quanti è un grande strategico guardate io ho studiato ho messo in evidenza anche la strategia di Filangiri è un personaggio che veramente dispiace che nel 60 abbia fatto il suo volta faccia perché a loro è veramente eccezionale che cosa fa lui fa intendere che vuole andare lungo la strada diciamo tirrenica su Palermo e quindi fa fortificare tutta quella zona e invece che cosa fa incomincia ad attaccare la costa perché ci sono delle forze molto consistenti a Catania le quali si vanno a barricare prima di tutto a Taormina e ci sta scritto in questo libro un bellissimo episodio che riguarda i nostri soldati che sono cose da mettere in un film che avrebbe un successo clamoroso immaginate Taormina sappiamo dove sta sta in alto c'era un'artiglieria molto ben posizionata che poteva bloccare i reggi per molto tempo sulla strada di Torania anche perché la flotta non poteva arrivare a sparare fin sopra Taormina e allora era un grande problema Filangirio dal primo momento aveva detto noi andremo verso Catania però non ci andremo per la strada o faremo finta di andare per la strada principale quella litoranea invece manderò moltissime truppe sulle montagne per aggirare la strada costiera e allora un plotone non una compagnia un plotone di reggi si trova improvvisamente a poche centinaia di metri in linea d'aria da Taormina e vede che ci stanno non più di una dozzina di artiglieri pronti a sparare se arrivano i reggi e allora questo che cosa fa? Dice facciamo vedere che siamo tanti attacchiamoli in massa cominciamo a sparare a tutta forza gritando vi vorrei e attacchiamoli loro pensano che sia arrivato un battaglione intero vediamo che succede c'è il coraggio di rischiare la propria pelle ma ottiene il risultato questi si spaventano quando si vedono presi alle spalle dai soldati borbonici e se ne scappano vengono prese i cannoni e si continuano ad andare su Catania dove purtroppo avverrà poi una battaglia terribile per liberare Catania dagli stranieri e anche qui ci saranno molti lutti anche per la popolazione anche per le case dei civili perché questi combatteranno casa per casa e faranno delle vittime enormi anche per i nostri soldati e poi l'ultima cosa strategica importante questi aspettavano sempre una flotta che sbarcasse a Palermo e si erano guardi cari avevano fatto un'artiglieria costiera perché a Palermo costavano i peri rivoluzionari invece che cosa fa Carlo Filancini anche se la via è lunga da Catania punta su Palermo per l'interno per Enna e loro imprevisamente non sanno più dove sta Filancini improvvisamente lo scoprono sulle montagne alle spalle di Palermo guardate che i siciliani quando arrivavano in un piccolo paese i reggi si armavano alla meglia e andavano appresso a loro e facevano i san felice a Napoli questa è una cosa bellissima che succede nel 48 e succederà nel 60 i siciliani insieme ai soldati contro lo straniero invasore e allora a Palermo non c'è bisogno manca di combattere questi hanno paura quando vedono l'armata di filangeri sulle montagne attorno a Palermo e praticamente se ne scappano sulle navi inglesi e tolgono l'incomodo e mettono addirittura dei manifesti in comitato provvisore antirivoluzionario e dice non diamo il benvenuto ai fratelli napoletani che non sono soldati stanieri ma sono i nostri fratelli che ci vengono a liberare Palermo è piena di questi manifesti e è una cosa molto toccante perché delle coincidenze non sono mai soltanto coincidenze e il 15 maggio del 49 il giorno in cui anche Palermo è liberato dai soldati reggi che entrano osannati dalla folla come dice il consul inglese tutti con le bandiere bianche borboniche e tutti a inneggiare i soldati napoletani che li hanno liberati da una tiranni del rivoluzionario ma perché non solo per motivi ideologici ma per motivi finanziari voi non avete l'idea che cosa sperpera la Sicilia in quei mesi di tiranni del rivoluzionario che cosa si pappa Ruggero Settima e tutti i suoi degni compari e che cosa deve pagare la gente di tasse continuamente per finanziare la rivoluzione e un film è già visto il giacobinismo che per poter mantenere il suo stato scuo vessano le popolazioni quindi questo libro è senza ascoltarlo e lo riportiamo ma poi lo vedremo nel 60 quello che succederà e quello che saccheggeranno prima i caribaldini poi Savoia insomma Vincenzo andare a concludere si può dire questo e faccio una mia riflessione prima di salutarti e che praticamente nel 48 gli inglesi capirono come dovevano intervenire accendere una rivoluzione europea era molto complicato per far sì che loro potessero portare avanti i propri obiettivi e capirono che bisognava fare una tappa alla volta e nel 60 cominciarono ripartirono dalla Sicilia però in maniera diversa soprattutto con tanto tanto denaro in più perché la corruzione dilagò in maniera spaventosa i fiumi di denaro che arrivarono e che arrivò fu veramente incredibile ma poi soprattutto quello che ci dice che abbiamo letto che ci hai fatto leggere su Filangeri fa capire come alla fine nel 60 bastasse e sarebbe stato ancora più semplice del 48 poter disinnescare e far abortire il tentativo di rivoluzionare e di invasione del regno perché già era il 48 è una cosa europea un 60 è pronto a Napoli e basta ma poi era molto più agguerrita la Sicilia nel 48 leggendo il tuo manuale mentre invece nel 60 già a Cala di Afimi bastavano pochi soldati napoletani per fare un sol boccone di distrazione delle camicie rosse comunque Vincenzo io ti voglio salutare e ti voglio ringraziare il video finale è una sorpresa e quindi capirai che lo sono andato a prendere ispirandomi al tuo libro sono dei video che faccio vedere anche nelle scuole ma questa volta lo faccio alla fine di questa nostra chiacchierata io ti ringrazio per la tua disponibilità a nome mio e di tutti l'associazione di Alta Terri di Lavoro a nome dei nostri spettatori e sperando di poterci vedere presto per un altro appuntamento con la storia grazie Enzo buonasera arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti